Uno spazio sicuro per il miglior amico dell'uomo, il cane, dove poter scorazzare e giocare in libertà senza il vincolo del guinzaglio, rispettando anche la convivenza con gli altri utilizzatori del verde pubblico. A questo servono gli sgambatoi e a questo serviranno i prossimi in realizzazione a Fano, che tranne strutture private non ne dispone di pubblici al servizio della cittadinanza, dove portare il proprio fido, rispondendo così ad un'esigenza sempre più pressante della cittadinanza in possesso di cani ormai diffusi in ogni quartiere della città. Abbiamo iniziato da Fano 2 con un primo intervento che abbiamo finito di realizzare in questi giorni e proseguiremo la prossima settimana con il quartiere di Bellocchi. Sono i primi due realizzati dal comune, totalmente pubblici, disponibili 24 ore su 24. Entreranno pienamente in funzione quindi nel corso dei prossimi giorni, quello di Fano 2, nelle prossime settimane quello di Bellocchi, con una serie ovviamente anche di regole di comportamento per un buon utilizzo che sia rispettoso degli animali e ovviamente anche dei cittadini dei quartieri che li ospitano. In una mappatura dell'ufficio Ecologia Urbana sono state individuate ben otto aree pubbliche dove realizzarli, praticamente uno per quartiere. I primi ad essere realizzati sono uno nel quartiere di Fano 2 assieme ad una riqualificazione dell'area giochi per bambini e che praticamente è già fatto, resta solo da inaugurarlo. E dentro l'estate nel quartiere di Bellocchi per una spesa complessiva di 10.000 euro con attrezzature dedicate per gli amici a quattro zampe. Gli sgambatoi ovviamente saranno recintati, saranno pubblici, saranno quindi aperti a tutti, avranno una fontanella per l'acqua pubblica, le panchine e quindi speriamo possono essere utilizzati in maniera tale che magari chi porta il cane a passeggio possa concentrare qui e magari anche nelle maniere adeguate che prevede il regolamento possa farlo sgambare in queste aree, magari senza creare problemi a tutti gli altri fruttori che sono vicini, magari in questo caso i bambini in particolare.